Ben trovati, sono il dottor Michele Rabianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 5 novembre, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione Basilicata sono stati complessivamente processati 1.461 tamponi molecolari per un totale complessivo di 112.980 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. Le positività totali riscontrate in residenti sono 244 in aumento rispetto al precedente bollettino, alle quali si aggiungono 5 positività di residenti in altre regioni in isolamento in comuni della Regione Basilicata. Le rimanenti 25 riguardano residenti in altre regioni e lì in isolamento. I suddetti tamponi non rientrano nel computo dei casi positivi della Regione Basilicata. Sul totale dei casi, tra i positivi odierni, risultano prevalenti quelli di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, l'età media è costante rispetto a quella dei precedenti bollettini per i casi di sesso femminile di 50 anni, rispetto a quella di sesso maschile che si attesta intorno ai 44 anni. Tra i casi positivi odierni, il 16% dei soggetti si riscontra nelle fasce di età compresa tra i 6 e i 20 anni, il 60% è rappresentato da soggetti nella fascia di età 21-64 anni, mentre il rimanente 24% è rappresentato da soggetti al di sopra dei 70 anni d'età, a probabile testimonianza dell'interessamento di qualche struttura protetta, così confermato da indagini epidemiologiche in corso sul territorio. Alcune considerazioni sui tamponi effettuati. A prescindere dal dato numerico totale, alla data odierna la percentuale di incremento dei casi positivi nella settimana di riferimento aumenta circa il 35% per la regione rispetto alla media nazionale. Per quanto riguarda invece il rapporto casi positivi numero totale dei tamponi effettuati in dato odierna, questo si attesta intorno al 15%, a testimonianza comunque di una circolazione del virus sul territorio regionale che indica un sovraccarico nel sistema di tracciamento e isolamento dei focolai. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 della regione, 134 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 12 interessano il capoluogo. I rimanenti 122 sono distribuiti in 25 comuni della provincia. 115 casi positivi sono attribuiti alla provincia di Matera e di questi 63 interessano la città di Matera, mentre i rimanenti 52 sono distribuiti in 16 comuni della provincia. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere Covid-19 dedicate della regione è di 116 pazienti, in aumento rispetto al precedente bollettino, così come il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, rispettivamente 7 a Potenza e 9 a Matera. Purtroppo si sono registrati ulteriori tre decessi associati a Covid-19 con età media di 82 anni. Il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale per la regione Basilicata a 59 soggetti. I guariti della giornata sono 32 per un totale di 699 unità e i positivi Covid-19 residenti nella regione sono 2.204, mentre coloro che sono in isolamento domiciliare sono alla data odierna 2.088. Infine alcune considerazioni in base ai dati presentati. Si osserva un aumento numerico dei casi positivi totali rispetto al bollettino precedente, con un incremento degli indici correlato all'aumento dei casi positivi nella regione. Indagini epidemiologiche e di tracciamento dei contatti continuano a mostrare nella gran parte dei casi il mancato rispetto delle norme di prevenzione individuale e collettive previste. La velocità di progressione dell'infezione ha quindi costretto ad avviare misure di mitigazione nazionali e regionali che tendono a rallentare la curva di crescita dell'infezione. Si ribadisce che in questo momento è prioritario ridurre il numero dei nuovi casi di infezione per alleggerire la pressione che inevitabilmente si ripercuote sui servizi sanitari. Fondamentali sono le misure di prevenzione individuale e collettiva, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Fondamentale è anche il ricorso alla cosiddetta bolla sociale, che consiste non nel limitare la vita di ciascuno di noi, ma nel mantenere nel limite del possibile sempre le stesse relazioni familiari o lavorative, in modo che in caso di positività il virus rimarrebbe circoscritto a un numero contenuto di persone e ciò faciliterebbe il compito del tracciamento dei contatti. Discorso a parte per le strutture residenziali sociosanitarie, che in questi giorni sono interessate appunto da positività per Covid-19. Le strutture residenziali sociosanitarie includono strutture residenziali per persone non autosufficienti, quali anziani, disabili, e includono anche strutture residenziali extraospedaliere ad elevato impegno sanitario. Gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità rappresentano una popolazione fragile. La maggior parte dei casi di Covid-19 si manifesta appunto in questi soggetti. Fondamentali in quest'ambito sono le misure preventive e i protocolli da adottare da parte dei gestori e del personale di assistenza per evitare di coinvolgere queste popolazioni fragili e proteggerle dall'epidemia di Covid-19. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.